Arrivano la spicciolata, extracomunitari senza fissa dimora della città, ma soprattutto tanti nuovi poveri, famiglie baresi che magari un tetto lo hanno ma non sanno come tirare avanti, donne madri, uomini separati senza più un lavoro. L'appuntamento in stazione, in Piazza Moro, per una volta non per distribuire pasti, ma frutta, pesche, prugne, anguria, quasi 30 tonnellate distribuite in due giorni in sei punti della città, grazie ad una rete di solidarietà che ha visto in campo i volontari dell'associazione Incontra, Brigata Pinerolo, aziende private, frutta fresca e assolutamente ottima, praticamente terminata. Questa frutta arriva con grande generosità dalla Compagnia delle Opere di Bitonto. Per la prima volta abbiamo avuto anche l'aiuto dell'esercito. Hanno contribuito tutte le associazioni, persino la DISA, la DISA Distribuzione, che ha donato 5.000 buste. Non sono soltanto i senza fissa dimora in questo momento che sono in grandi difficoltà. e quello che abbiamo visto oggi erano anche le nostre famiglie. Nicola è un volto nuovo tra chi si affaccia per raccogliere cibo, sposato, ha una casa, ma non ce la fa ad arrivare a fine mese. Da quanto tempo vieni qua in stazione? Sto ultimamente da quando sono riuscito al carcere, quindi sto in attesa di qualche lavoro. Lavoravi prima? Facevo il parrucchiero, però siccome c'ho l'età, sono un po' giudicato, nessuno mi vuole andare a lavorare. A due passi c'è il camper dell'acqua, distribuita ogni giorno presso la stazione centrale dalle 14 alle 18, una delle tante iniziative decise con il Comune per affrontare l'emergenza caldo nel mese di agosto.